Ragazzi, shh, silenzio, dobbiamo fare un mega scherzo, dobbiamo dirlo a bassa voce, se no si sente. Allora, io in descrizione vi lascio, intanto abbiamo la mia tassoni preferita, dicevo, in descrizione vi lascio il link di un canale Telegram, scaricatevi Telegram, entrate su quel canale Telegram, tramite il link potete entrare, ci sono anche io, quindi potete anche parlare con me tramite quel cazzo di link che vi mando, e dovete tutti quanti entrare e scrivere hashtag paciola, vi lascio tipo qua come dovete scrivere, tutti quanti, poi potete pure uscire, l'importante è che entrate tutti e scrivete hashtag paciola. Mi raccomando non mancate, questo è un mega scherzone che poi non è tanto scherzone, però ci facciamo grosse risate, ve lo assicuro, mi raccomando hashtag paciola, il link per iscrivervi al canale Telegram ve lo lascio in descrizione, shh, ditelo in giro ma con auma auma, diciamo così, ciao!